Il governo si prepara a bloccare gli stipendi statali. E per far fronte alle spese della pandemia, alla necessità di risparmiare per pagare debito e servizi, il cancelliere Sonac si sta preparando a bloccare eventuali aumenti di salario per i dipendenti pubblici, ad eccezione di quelli sanitari. Decisione che ha inevitabilmente scatenato polemiche, proteste e ironia da parte dei sindacati. Milioni di lavoratori del settore pubblico pagheranno la crisi con il blocco degli stipendi. È quello che potrebbe accadere l'anno prossimo e si saprà già da questa settimana, quando il cancelliere Sonac presenterà la legge di bilancio per il BN 2021-22. Gli statali non riceveranno aumenti per risparmiare soldi necessari a coprire le spese della pandemia, ad esclusione dei lavoratori di NHS che non dovrebbero subire il blocco degli aumenti. Gli altri statali non vedranno adeguati i loro stipendi e subiranno così gli effetti dell'inflazione più che in passato. Il governo sta infatti pagando un debito pubblico molto alto e ha bisogno di tagliare le spese, visto che il settore privato, costretto alla chiusura dai lockdown, è in forte difficoltà e non potrà contribuire alle case dello Stato come gli altri anni. Il Ministero non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma ha ricordato le parole di Sonac in una lettera di commento del cancelliere a proposito della spending review, pubblicata in luglio. Nell'interesse e l'imparzialità dobbiamo applicare un vincolo agli aumenti di stipendio nel settore pubblico, assicurandoci che nel corso dell'anno il settore pubblico paghi alla pari del settore privato, era scritto nella lettera. Il Tesoro ha anche fatto riferimento allo studio del Center for Policy Studies, che indica tre anni di blocco degli stipendi per risparmiare 23 miliardi. Per l'Ufficio Nazionale di Statistica Britannico, il settore pubblico paga il 7% in più rispetto al privato in stipendi. Saranno circa 5 milioni e mezzo i lavoratori interessati dal blocco, tra insegnanti, poliziotti, impiegati e forze armate, ad esclusione di NHS. Ma con il settore privato in crisi, non è escluso che il governo taglia addirittura gli stipendi degli statali, per compensare quanto non verrà raccolto di tasse. I sindacati del settore pubblico hanno subito commentato negativamente le indiscrezioni, come la United Trade Union, che parla di insulto ai lavoratori del settore pubblico, mentre il sindacato dei pompieri ironizza tra blocco degli stipendi e applausi ai lavoratori essenziali, ricordando gli appalti miliardari elargiti durante la pandemia agli amici dei politici, sotto indagine da parte della Corte dei Conti Britannica. Questa puntata è offerta da Fattoria Donnatina, il negozio delle eccellenze semplici e naturali, anche online, senza uscire di casa. Cercaci su donnatinastore.com Cercaci su donnatinastore.com